La tutela globale del lavoratore con particolare attenzione per gli infortuni e il rinserimento lavorativo al centro della giornata di ascolto organizzata dall'Inail nel Palazzo di Governo a Campobasso. L'evento di oggi è un evento voluto dal nostro Consiglio di Indirizzo e Vigilanza e vede praticamente la presenza nell'arco di 4-5 giorni su tutto il territorio nazionale. E' proprio diretto a rappresentare quella che è in questo momento la politica sociosanitaria dell'Istituto che ha mutato sotto alcuni aspetti la propria mission perché è diretto a quella che è una tutela, una presa in carico globale del lavoratore. Numerosi vantaggi per i lavoratori grazie alla sinergia tra le istituzioni locali e l'Inail, nello specifico con l'ASREM e l'ordine dei medici finalizzata a dare risposte che vanno oltre i LEA, i livelli essenziali di assistenza. I vantaggi per il lavoratore sono tanti, prima di tutto gli verrà data la possibilità comunque di avere i vari tipi di assistenza a livello di reinserimento sanitario, però anche quello che è il reinserimento sociale sicuramente è un punto all'attenzione per quanto riguarda l'Istituto. Il Molise si colloca fra le prime otto regioni d'Italia ad aver siglato tali protocolli, un importante traguardo per la regione che ha visto proseguire il trend positivo di riduzione del numero dei casi di infortuni denunciati, un risultato dovuto anche alla diffusione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro realizzata attraverso l'azione congiunta di soggetti istituzionali, parti sociali e datoriali.